L'argomento di oggi è la fimosi. La fimosi è una condizione di impossibilità alla retrazione del prepuzio. Sembrerebbe una condizione esclusivamente pediatrica e non lo è effettivamente. La fimosi può dar fastidio agli adolescenti, può essere scoperta in età adulta e anche anziana. Perché è importante riconoscere la fimosi e trattarla precocemente? Perché si associa a infezioni che nel nostro ambiente vengono definiti balaniti, balanopostiti, ma anche patologie sessualmente trasmissibili più gravi, proprio per l'impossibilità a lavare il solco del balanoprepuziale e detergere la cute del glande e le mucose genitali in maniera adeguata. La fimosi può ovviamente manifestarsi certamente con l'impossibilità a scoprire il glande e spesso si associa con delle cattive performance sessuali o anche con presenza di secreti e infezioni a livello dei genitali esterni. Nel caso di una popolazione più pediatrica basterà utilizzare delle pomate, dei prodotti cortisonici accoppiate magari con una manovra di gentile retrazione del prepuzio, d'altra parte se la condizione si verifica in un'età più adulta la circoncisione è quasi sempre la soluzione. È chiaramente una chirurgia ma è una chirurgia in genere ambulatoriale o con dei hospital che risolve in maniera brillante un problema che può avere anche delle implicazioni molto gravi.